La sua morte improvvisa, a 41 anni, aveva colpito profondamente gli ambienti del giornalismo e dello sport pugliesi, nei quali era stata apprezzata protagonista. Per delicatezza e soprattutto per rispettare una norma deontologica che impone di non diffondere notizie di suicidi, a meno che essi non abbiano una rilevanza effettiva, non erano mai stati resi noti finora dalla stampa, in retroscena della morte di Patrizia Nettis, giornalista professionista originaria di Gioia del Colle, trovata senza vita nel suo appartamento di Fasano, dove si era da poco trasferita essendo stata nominata a detta stampa del Comune. Ora quella drammatica vicenda torna alla ribalta perché sulla scorta della denuncia presentata dalla famiglia di Patrizia e dopo l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Brindisi, c'è il nome di un uomo iscritto nel registro degli indagati. L'inchiesta è condotta dai carabinieri della compagnia di Fasano che il 29 giugno scorso intervennero nell'appartamentino in cui si era da poco trasferita la giornalista e il cui corpo senza vita era stato scoperto da un amico allertato dai genitori e dall'ex marito che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Superato lo shock di quel momento, la famiglia ha cominciato a porsi domande precise su quanto accaduto nella convinzione che Patrizia non avrebbe avuto nessun motivo per togliersi la vita, soprattutto perché madre di un bambino di nove anni. Attraverso il suo legale, Giuseppe Castellaneta, i genitori della giornalista hanno chiesto la riesumazione della salma per effettuare quell'esame otoptico che la procura di Brindisi non aveva ritenuto necessario far svolgere riconsegnando la salma ai congiunti. La richiesta finora non è stata accolta, ma l'avvocato della famiglia ha appreso dell'esistenza di un indagato in relazione alla morte di Patrizia, non è dato di sapere per il momento quale sia l'ipotesi di reato formalizzata dalla procura nei suoi confronti.